Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo brevissimo video di aggiornamento in cui ho un po' di novità da discutere con voi perché da pochi giorni Apple ha rilasciato come prima cosa una versione aggiornata del suo nuovo MacBook da 12 pollici e in secondo luogo sono state svelate le date della WWDC 2016 ma non perdiamo tempo e parliamone velocemente insieme Bene come prima cosa trattiamo l'aggiornamento che la linea MacBook ha subito per chi non lo sapesse il MacBook di Apple è quel nuovo portatile commercializzato nel 2015 che è stato allo stesso tempo amato e odiato da molti utenti perché è molto particolare, ha una tastiera unica nel suo genere che o la si ama o la si odia stesso vale per il trackpad, è estremamente sottile ma d'altro canto non è molto potente e prima di ogni cosa ruota tutto attorno alla USB-C è quel famoso MacBook che ha soltanto l'entrata per il jack delle cuffie e dall'altra parte l'entrata per il cavo di ricarica USB-C dal quale poi con degli adattatori a parte si possono aprire tutte le altre porte Bene pochi giorni fa questo MacBook è stato aggiornato e è uscita una nuova linea sul mercato di MacBook 12 pollici con alcuni tra virgolette significanti cambiamenti Innanzitutto al loro interno troviamo il nuovo processore Intel Core M di sesta generazione a 1.3 GHz 8 GB nel modello standard di RAM clockati a 1866 MHz come scheda video abbiamo una integrata Intel HD Graphics 515 cosa molto interessante lo storage, il disco che oramai non è più un disco fisso da tanto tempo non è neanche un SSD, è basato su PCIe quindi avrà una velocità veramente massima la durata della batteria è stata aumentata a 10 ore in media e viene commercializzato anche lui nel nuovo colore Rose Gold Ora ci sono due cose anzi meglio tre cose che io non capisco di questo aggiornamento della linea MacBook Numero 1 voglio trovare una persona che compra un portatile Rose Gold seriamente se qualcuno di voi compra questo nuovo portatile Rose Gold mi mandi una foto sua col portatile in mano e vi garantisco che finisce in qualche mio video perché già il colore Rose Gold su un telefono a lungo andare può stancare parlo per esperienza personale un portatile in Rose Gold veramente non lo concepirei comunque seconda cosa troppo poco upgrade a mio parere ok 4 GB in più ora siamo passati a 8 GB ok processore leggermente più potente ok batteria leggermente più duratura ma per esempio rimane una fotocamera frontale in 480p che è maledettamente troppo poco e poi magari non si poteva cogliere la palla al balzo di questo aggiornamento per includere almeno un adattatore USB-C USB già dentro alla scatola del MacBook questi cambiamenti li avrei apprezzati sicuramente molto di più ad ogni modo i prezzi per queste nuove configurazioni di MacBook sono 1500 euro per il modello base e più di 1800 per il modello avanzato ma ora passiamo a una notizia che vi renderà sicuramente più felici è stata svelata la data ufficiale della WWDC 2016 per chi non lo sapesse la WWDC sta per World Wide Developer Conference ed è quell'evento durante il quale Apple mostra al mondo intero tutti i nuovi software che ha in progetto di rilasciare per il 2016 e chi è che quest'anno ci ha comunicato le date ufficiali di questo evento proprio Siri quando sarà il WWDC e vai me l'ero perso comunque come avete sentito dal 13 al 17 giugno come poi Apple ha anche confermato con un banner molto carino che ha messo su developer.apple.com ci sarà questa conferenza l'evento in sé sarà il 13 sera di solito lo fanno o alle ore 18 o alle ore 19 ora italiana quindi durante quell'evento avremo modo di vedere il nuovo iOS 10 o forse si chiamerà iOS X watchOS 3 tvOS 2 e il nuovo macOS 10 che arriverà a questo punto alla versione 10.12 insomma tutto l'hype sta in iOS 10 perché è il primo numero a due cifre che raggiunge la versione di iOS molti pensano che questo comporterà un cambiamento radicale in tutto il sistema questo può essere possibile anche perché sarà il sistema già preinstallato sul futuro iPhone 7 che uscirà a settembre quindi è logico che ci sia un cambio radicale non penso sarà evidente come quello che c'è stato da iOS 6 ad iOS 7 lì proprio si trattava esteriormente di un sistema operativo completamente diverso però considerando che iOS 8 e iOS 9 si sono focalizzati soprattutto sullo sviluppo delle applicazioni quindi risorse utili per gli sviluppatori e sulla fluidità del sistema è molto probabile che iOS 10 si concentri di più su nuove funzioni e su cambi di design molto probabilmente ad ogni modo non sappiamo ancora molto non c'è nulla di sicuro e tenete a mente che ci presenteranno anche i nuovi watchOS tvOS e macOS detto questo ragazzi questo velocissimo video di informazioni finisce qui fatemi sapere se lo avete apprezzato lasciando un bel pollice in su e scrivetemi mi raccomando molto importante qua sotto nei commenti le nuove funzioni che vorreste da iOS 10 o comunque dal nuovo macOS dal nuovo watchOS insomma fatemi sapere tutto quello che vi frulla per la testa detto questo seguitemi anche su tutti i miei social network i link ve li lascio come sempre qua sotto in descrizione vi ricordo anche che ho un canale telegram se non volete perdervi nemmeno un mio video o novità sul canale iscrivetevi anche lì ma soprattutto ragazzi la cosa più importante iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo ad un prossimo video iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al mio canale